Valentina Mezzaroma, vicepresidente del Siena, oggi viene inaugurato il nuovo Sogno Siena, un bel negozio, fra poco lo vedremo dall'interno, però quanto è importante per la promozione della squadra? La promozione della squadra spero che porti un po' di fortuna, qui le novità servono e la novità l'avete visto in tutto, nuovo allenatore, nuovi giocatori, nuova società, perché ancora mi ritengo una novità all'interno della città di Siena e nella squadra. Quindi come abbiamo portato tante novità, una nuova novità, ribadiamo questo concetto e una nuova sorpresa, speriamo che possa essere gradita a tutti. L'idea di fare un negozio nuovo, aprire un negozio nuovo, da che cosa è partita? Un pochino anche per la logistica, perché comunque sia, come vedete, la Sapienza è una strada di scorrimento molto facile per raggiungere lo stadio, quindi la domenica mattina, come ben sapete, i senesi hanno questa bellissima abitudine di raggiungere lo stadio a piedi, quindi si fa questa magnifica passeggiata e si compra il biglietto e poi si va direttamente allo stadio. E anche per i turisti si passa, diciamo che è una tappa abbastanza obbligatoria per andare sia a piazza del campo o per raggiungere il Duomo, quindi chissà, magari nei nostri futuri viaggi vedremo qualche maglietta del Siena indosso a qualche inglese, a qualche francese, a qualche spagnolo, perché l'ha acquistata proprio a sogno Siena. Ecco, ed economicamente quanto è importante oggi per una società di calcio il merchandising? Ma diciamo che comunque è una parte sicuramente consistente, quindi noi spingiamo e più che altro è di lustro, perché vogliamo vedere che il nostro marchio giri per il mondo, sicuramente per adesso, per l'Italia e poi per il mondo, siamo ambiziosi.